Siamo alla 49esima edizione del Nautico Sud. Rappresento l'autosalone Italia, l'Italia Mare, azienda di famiglia che è presente dal 1972 in questa fiera. Negli anni abbiamo rappresentato tantissimi marchi. Quest'anno siamo qui e presentiamo quattro marchi. Le imbarcazioni di prestigio dell'Azimut, che è un cantiere che non ha bisogno di presentazione, rappresentiamo Prestige, che è un cantiere del gruppo Giano che fa delle barche sempre molto prestigiose e di una misura che vanno dai 15 ai 23 metri. Inoltre quest'anno siamo qui su questa imbarcazione dove mi vedete che una barca della Giano è un DB43, è una nuova linea della Giano. DB sta per Day Boat, una barca per la giornata, però una barca molto particolare perché questa è una barca che ha degli spazi enormi, un bel mobile bar, le sponde apribili, è comunque un 43 pedi che ha due cabine, letto e due bagni. E' l'unica barca open in questo momento sul mercato che invece di avere al solito a top è una barca praticamente che ha anche il vetro chiuso avanti. Quindi è una barca che è molto protetta anche in condizioni di vento e mare. Oltre, diciamo, la Giano con questo nuovo modello che presentiamo, abbiamo portato in anteprima nazionale in una nuova imbarcazione della Wehrcraft, il Wehrcraft 355, che è un'imbarcazione molto sportiva, molto innovativa, un disegno nuovissimo con parabrezza di volto in avanti, tettuccio e un salotto per chi piace avere una barca molto veloce con dei conforti incredibili. Con un bagno ho chiaramente una sola cabina da letto anche su 35 piedi, tre motori Yamaha da 300 cavalli, laggiù supera i 50 nodi di velocità e ha un design superato. Siamo al padrone 6 e vi aspettiamo per farvi ammirare questi nuovi modelli e chiaramente fino al 19 saremo qui a vostra disposizione.